Lunedì verrà iscritta alla Dante. Un posto in terza media lo si è trovato finalmente per la tredicenne tunisina che fino all'altro ieri si era vista respingere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo per mancanza di posti. La mamma della ragazzina, arrivata a Piacenza in maggio, aveva richiesto di iscrivere la figlia alla fine di giugno alla media Faustini. «Mi è stato detto che avrebbero accettato la domanda e fatto l'iscrizione direttamente a settembre», aveva spiegato la mamma. «Sono stata contattata dalla scuola lo scorso venerdì e mi hanno detto che non c'era posto di provare alla Dante. Mi sono presentata lì lunedì, ma anche in questa occasione mi hanno detto che non c'era posto e lo stesso è accaduto alla Carducci. Alla fine mi hanno indirizzato alla Calvino, ma anche in questo caso è risultato impossibile iscrivere la bambina per mancanza di posto». Finalmente, ieri, è stata comunicata alla famiglia la possibilità di iscrivere la ragazzina alla media Dante in terza media. La madre andrà a iscrivere la figlia lunedì. La vicenda, resa nota da libertà, ha subito suscitato molte discussioni, ma non solo. Carlo Dionedi, direttore della scuola parentale Giovanni Paolo II, si è subito dichiarato disponibile ad accogliere la ragazzina in una delle sue classi. Anche Maurizio Bocedi, dirigente dell'ufficio scolastico regionale per Parma e Piacenza, era intervenuto al riguardo. «Ho dato disposizione e chiesto di contattare i dirigenti scolastici per dare una soluzione il prima possibile a questa situazione», aveva dichiarato. Soluzione che finalmente è arrivata.